Rosario, grande soddisfazione per questo torneo di Natale, alla mattina i più grandi, al pomeriggio i più piccoli, una grandissima festa promozionale per il Judo. Sì, noi come sempre organizziamo questi eventi per promuovere la nostra disciplina, un po' bistrattata, però diciamo che va bene. 28 anni che organizziamo questo torneo, i numeri parlano da soli, perché anche oggi abbiamo qualcosa come 750 atleti partecipanti. Grande soddisfazione inoltre la presenza della squadra Ipovedenti Azzurri, di cui sei diventato dirigente. Sì, io da quest'anno ho avuto un incarico in federazione FISPIC come direttore sportivo della squadra nazionale, quindi abbiamo approfittato per far venire qui quattro ragazzi che sicuramente avranno delle chance, è un impatto molto importante per questi ragazzi non vedenti e ipovedenti confrontarsi con i normodotati. Questo è un appuntamento che vi permette già di fare le prove generali per il torneo Città di Colombo? Sì, questa è l'ultima gara dell'anno, però noi subito a febbraio organizzeremo il torneo Genova Città di Colombo, presso sempre questa sede, dove come la scorsa edizione abbiamo già circa 1100 atleti partecipanti, in rappresentanza di tutta l'Italia. E il bilancio del 2016 del Marassi Giudo com'è? Il bilancio è stato molto positivo perché due dei nostri ragazzi sono riusciti a salire sul podio alle finali dei campionati italiani, altri ragazzini si sono distinti in vari tornei nazionali ed internazionali, quindi per noi è un ottimo risultato positivo. Una bella esperienza per la vostra squadra nazionale, anche qui al torneo di Natale, grazie a una collaborazione sempre più stretta con Rosario Valastro, vostro dirigente. Sì, anche perché da quest'anno lui è un nostro collaboratore della squadra nazionale, diciamo, della Paralimpica, e fa piacere che siamo qua in una gara della federazione della FISPitch e cominciare a partecipare a questi tornei è importante per la squadra e per i ragazzi. Diciamo la passione, la passione questa è una cosa che viene sempre tramite le loro palestre, i loro luoghi dove sono, perché vengono da tutta Italia. E poi sa a noi inserirli in un canale, diciamo, della nazionale, fargli fare dei tornei importanti in modo che crescono anche loro. Quanti sono? Adesso della nazionale sono 5-6 atleti, ma i concorrenti ce ne sono tantissimi. I prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti dovremmo avere questi per i atleti della nazionale, il torneo internazionale Alpeatria e il città di Colombo, sono i prossimi appuntamenti. Quali consigli dai loro? I consigli sono tanti e devono allenarsi sempre e ascoltare sempre quello di loro maestri.